Ho aspettato di stare un po' meglio per parlare un po' con voi, ma siccome mi mandate un sacco di messaggi e mi chiedete come sto, siete stati troppo carini e ci tengo a fare un video e a parlare un po' con voi. Allora io sto un po' meglio anche se sono molto sensibile, ma è normale nel post parto e mi sto riprendendo anche fisicamente un po' alla volta e inizio a fare delle camminate, un po' alla volta sto riprendendo un po' a fare le cose che faccio sempre. Ci tenevo tantissimo a dire che grazie alle persone che hanno donato sangue sono qua e posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto dell'importanza di donare sangue fino a quando ho partorito, che mi è successo quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quando ti succedono ti rendi conto di quanto sono importanti questi gesti. Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare sangue e vi prego di farlo perché non sapete quanto importante è. A me tantissime persone che ovviamente non conosco mi hanno salvato la vita e sarà una cosa che farò anch'io. E poi per quanto riguarda la bimba, lei è bellissima, sta bene, i fratelli l'amano follemente. Sono già passata in secondo piano. È piccolissima. E niente, a me mi sembra di vivere un sogno, veramente. Soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato. Vi mando un bacino e vi ringrazio di tutti i messaggi e tutto l'amore che abbiamo ricevuto.